buongiorno a tutti sono maria creatrice di merlin fashion e in questo video vedremo oggi assieme come costruire il cartamodello della felpa che abbiamo presentato nel video precedente cerchiamo di rendere la felpa il la costruzione di questa felpa il più semplice possibile andiamo a vedere come si inizia sempre da un angolo retto un angolo retto con vertice in a